Ciao e benvenuti in OneMinuteFoto. Daniele mi chiede qual è la miglior post produzione possibile per fotografie di eventi live con risultati ottimi in pochissimo tempo? Per una grande post su Fotolive hai bisogno di tre cose. Un bravo fotografo e un sensore performante ad alti iso per uno scatto di qualità. Una grande band. E poi ti serve un ottimo sviluppatore perché i problemi principali sono dovuti alla gestione dell'esposizione, ai colori fuori gamma dei riflettori e alla perdita di qualità nel dettaglio dovuta agli alti iso. I primi cinque minuti della post, quelli dello sviluppo, sono determinanti. Qui si fanno di solito gli eroi più gravi e qui si decide il destino della tua foto. Lightroom e Camera Raw soffrono la gestione dei colori fuori gamma quindi la prima cosa da fare è modificare il profilo fotocamera. Ma se vuoi ottimi risultati sui fuori gamma, una grande gestione dell'esposizione e un dettaglio bellissimo grazie a struttura e nitidezza, la soluzione per le tue foto live si chiama Capture One.